Archiviato il pari a reti bianche contro il Matese per il time orinista il mini rush finale prima di Natale, due gare in tre giorni. Prima la trasferta dell'Aquila, poi il derby contro il lanciatissimo Campobasso in programma mercoledì 20 al Cannarsa. Testa domani per la sedicesima giornata del calendario mette in programma la difficile trasferta abruzzese contro il Rosso Blu. La squadra di Mister Cappellacci attualmente occupa la quinta posizione in classifica. Vanta la seconda miglior difesa del girone con sole 12 reti concesse agli avversari. E viene da due vittorie consecutive, ultima il blitz esterno di Riccione, firmato da un rigore di Banegas. Pericolo numero uno per la difesa giallorossa. Gioca prevalentemente con il collaudato 4-3-3. Punti di forza all'esterno dal gol facile Angiulli, l'attaccante Jonathan Alessandro e appunto Pablo Ezequiel Banegas. Capocagnonere della squadra con i suoi sette centri stagionali. Il rosa anche l'ex Olimpia Agnonese e Matese Luca Cassese. Ultimo dal mercato è arrivato il centrocambista Michael Auriglio. Di contro ci sarà un termo ricarico e voglioso di fare una grande partita e uscire dal campo al novantesimo con un risultato positivo. In settimana il padron Montaguila con un posto di social specificato che Esposito rimarrà in basso Molise fino alla fine della stagione, pogliendolo di fatto dal mercato. Mercato che invece darà pedine importanti per inversare all'organico. Ufficiali gli arrivi di un centrocambista Longo ed un attaccante l'argentino Bursio. Salutano invece Vitiello, Bentos e Sarracino. Tornando al campo, mister Massimo Carnevale non dovrebbe fare grossi cambiamenti rispetto a sette giorni fa. In porta non si tocca Lombardo, difesa con Cagliazza, Ussol, Barche e Garzia. Al centrocambio rientra Maiolino che parte però dalla panchina. Mediana diretta da Scoppa con Grossi e Rinella, Esposito a girare dietro il 2 di punta, Hernández e Gabrielli. Pronti ad entrare a partita in corso, gli ultimi arrivati, Tio e Usfar. Partita complicata ma non impossibile. Al Gran Sasso d'Italia, l'Aquila Termoli sarà diretta dal signor Federico Mugginato, dalla sezione di Pordenone, coadruvato dagli assistenti di linea Giuseppe Chiarillo di Moniterno e Pasquale Minichiello di Arano Ilpino.